Sviluppo Genova mostra non solo un'ottima solidità ma anche un buon margine di crescita grazie a un utile che sarà reinvestito nella stessa società. Lo afferma Franco Floris, il presidente amministratore unico di Sviluppo Genova, la società che vede come azionisti il Comune di Genova, Banca Carige, la Camera di Commercio, la Fils, il Banco BPM, l'Aeroporto di Genova, la Sofing e Confindustria Genova, ancora la Banca Nazionale del Lavoro e l'AMIU. Il documento contabile approvato dai soci rileva un utile netto di oltre 86.000 euro, più del doppio rispetto al 2016. Per Floris si tratta di un dato che mette in evidenza come i risultati conseguiti siano da considerarsi estremamente positivi. Floris ha anche evidenziato che la lievitazione dei ricavi è imputabile all'avvio nel corso del 2017 di alcune significative commesse sulle aree di Cornigliano e in particolare l'ampliamento di lungomare Canepa e il collegamento della strada mare con il raccordo autostradale Genova-Cornigliano e ancora l'accesso est alle aree Ilva.